Nel 2001 William conosce Katrin Middleton, detta Kate, sua collega di studi alla ST Andrews University. La relazione tra i due dura quasi otto anni, venendo interrotta da una breve rottura nel 2007. Seguita da una riconciliazione, William regalò a Katrin, come anello di fidanzamento, lo stesso gioiello che fu donato da suo padre Carlo a sua madre Diana nel 1981. Il fidanzamento ufficiale venne annunciato il 16 novembre 2010 dalla Casa Reale Britannica. Si sono sposati il 29 aprile 2011, e nel medesimo giorno William ha ricevuto dalla regina Elisabetta II il titolo di duca di Cambridge. Il pilota ha perso la vita dopo lo schianto di uno Spitfire nel corso di un evento della battaglia d'Inghilterra presso la Langrick Road. Immediato è stato l'intervento dei servizi di emergenza e della polizia sulla scena Langrick Road intorno alle 13 e 20 di sabato 25 maggio. Per il momento il nome del pilota ancora non è stato reso noto. Ma il principe e la principessa del galle su X hanno scritto incredibilmente triste a prendere la notizia questo pomeriggio dalla RAF Coninsby. I nostri pensieri questa sera vanno, ai cari del pilota, al Battle of Britain Memorial Flight e alla più ampia famiglia della RAF. W e C. Non è mancata poi anche una dichiarazione di Sir Care, Starmer il quale ha affermato di essere profondamente rattristato da ciò che è venuto a sapere. Mentre il primo ministro Rishi Sunaksu X ha condiviso. È una notizia terribile vedere la vita di un pilota della RAF, in servizio interrotta, in questo tragico evento. I miei pensieri sono con la loro famiglia e i loro cari. A perdere la vita è stato un pilota della Royal Air Force durante un incidente Spitfire nei pressi del RAF Coninsby nell'inconscire.